Ha insegnato anche una cosa, la corona alla squadra che esce tra gli applausi degli avversari, cosa che nel calcio non si fa mai, si è fatta una volta, ma non si fa mai, però nel rugby capita tante volte. Sì, è stato bellissimo quest'anno, perché noi quest'anno, l'anno scorso abbiamo giocato 28 partite, era il primo anno delle zebre, e abbiamo perso 28 partite, quindi su 28 ne avevamo persa 28, quindi è stato un anno molto duro per tutti noi. Quest'anno siamo ripartiti, una squadra molto più forte, organizzata un po' meglio, insomma la terza partita siamo arrivati a giocare in Galvez, una squadra molto forte, insomma tutta la partita siamo rimasti lì con il risultato e alla fine siamo riusciti a vincere, cosa inaspettata, c'era 8.000 persone che insomma per il rugby, non sono poche, e alla fine appunto ci hanno fatto questa corona e anche il pubblico in un campo che ci approdivano, e quindi andare fuori i vincendi era molto molto bella, mentre salì per lente a fare la corona è un po' scomodo.